Oggi non parliamo di un personaggio perduto, scomparso da tanto tempo e dobbiamo sottrarlo dall'obbligo, perché in realtà ci ha lasciato molto recentemente, ci ha lasciato dopo una lunghissima vita, spesa in modo straordinario, non solo per se stesso, ma anche per la città in cui prevalentemente ha vissuto, Ancona. Parliamo di un grande della nostra sanità territoriale, ma è stato un grande, come ha lavorato il campo della medicina, sto parlando di Luigi Miti, è chiaro che ha avuto anche un'importanza fondamentale, non solo per Ancona, per il territorio intero, ma la fama di Gigi ha varcato i confini territoriali. Io lo chiamo, posso chiamarlo perché effettivamente è stato un grande amico per me, ci siamo visti fino all'ultimo e ho avuto anche l'onore e il piacere di leggere, di fare il discorso di commiato davanti alla salma di questo grande medico anconetano. E Luigi Miti era nato a Porto Potenza, a quei tempi ancora conservava per gli abitanti in nome di Montessanto, perché Porto Potenza Picena era una città molto religiosa, piena di chiese e per questo era chiamata appunto Montessanto. E lui nasce in una famiglia che gestiva, cioè la madre soprattutto, gestiva il bar del paese, l'unico ritrovo del paese. Tant'è vero che la madre metteva i suoi figli, perché era la madre che gestiva tutto, cucinava, dava la mescita del vino, del caffè eccetera, sotto il tavolo del biliardo dove giocavano e quindi i bambini lì sotto stavano al riparo e nello stesso tempo lei poteva sorvegliarli. Aveva tre figli, la mamma di Gigi, due maschi e una femmina. Per tutti e tre lei sognava un avvenire migliore, più grande di quello che la vita l'aveva costretta a percorrere. E quindi voleva che studiassero, che avanzassero nella conoscenza e nella professione futura. E quindi tutta la fatica che faceva, ed era tanta, secondo Gigi, non gli pesava, perché quello che era importante è l'amore dei figli. Voi pensate, questa donna, quando i bambini erano ancora piccoli, una notte li sveglia e aveva preparato il cibo per tutta la giornata, aveva affittato un wreck, era il cavallino che li portava in viaggio, una specie di carrozza dell'auto dell'epoca. Gigi nasce nel 1915. Come lui ricordava, lui diceva sempre, io sono sempre stato polemico in vita mia, ho fatto sempre guerra, combattuto sempre dappertutto per affermare il mio pensiero, il mio punto di vista. E' chiaro che questa vena polemica quasi sicuramente mi è venuta perché sono nato nell'anno stesso dell'entrata in guerra dell'Italia. E la madre appunto, come dice, li sveglia tutti e tre di notte, gli mette degli abiti pesanti addosso, con le coperte, perché parte di notte fonda, la porta potenza e li porta al monte d'Ancona, quindi il suo monte Conero, per fargli ammirare lo spettacolo dell'alba. E disse loro, io gli ho voluto regalare la bellezza, un momento di bellezza. Ricordatevelo sempre questo, che è un dono prezioso, saper riconoscere il bello della vita ed inseguirlo voi pensate che cosa straordinaria, questa donna che nonostante non avesse avuto una cultura profonda sentiva comunque le forze più vitali, utili per l'esistenza, per il vivere e quindi sarà fatta per una sera promotrice di bellezza.